Musica Cari telespettatori benvenuti a Primo Cittadino ripartiamo anche quest'anno con il programma di Fano TV dedicato ai sindaci della provincia di Pesero Urbino e iniziamo con il sindaco di Casa Nostra Massimo Seri buonasera e bentornato nei nostri studi Buonasera a tutti i telespettatori e ben ritrovati perché con il nuovo anno riprendiamo questo incontro, questo appuntamento di Primo Cittadino Vi ricordo che per intervenire in diretta potete telefonare allo 0721 86 14 33 oppure inviarci un messaggio al numero di cellulare che vedete in sovrimpressione Intanto le chiedo come sono andate queste festività se è riuscito anche a riposarsi un po' Beh queste festività sono state impegnative perché fino al 31 12, direi fino al 30 che era venerdì Siamo rimasti in prima linea perché avevamo tutte le scadenze e oggi posso dire che gli obiettivi che ci eravamo dati sono stati tutti raggiunti e sento il dovere anche di ringraziare tutta la struttura che ha lavorato fino veramente all'ultimo minuto cercando di mantenere gli obiettivi che ci eravamo dati Poi fra i vari appuntamenti insomma siamo rimasti sempre coinvolti Un sindaco per riposarsi veramente deve andare via dalla propria città Però il bello è anche questo perché poi si tengono relazioni con le persone con tutti coloro che lavorano per queste festività nelle varie forme quindi mi sento di dire che queste giornate sono trascorse tutte in mezzo alla gente e nel svolgere a pieno titolo tutte le mansioni che mi spettano Mi sono preso qualche ora di riposo per andare a fare qualche corsetta questo sì un paio di volte ma niente di più Per smaltire anche quello che si è mangiato Allora ci stanno arrivando veramente tantissimi messaggi in pochi minuti ne avremo una ventina Io non riuscirò a leggerli tutti mi scuso in anticipo però tutto quello che ci inviate poi noi lo inviamo o a sindaco o agli assessori competenti o quantomeno utilizzeremo queste segnalazioni per riproporvi i servizi durante il telegiornale dei prossimi giorni Partiamo dal TG invece che è andato in onda questa sera abbiamo trasmesso un'intervista realizzata all'assessore Stefano Guzzi relativamente alle scogliere perché diceva che è stata inviata la convenzione per l'avvio della progettazione della difesa della costa a Fano Nord quindi che cosa succederà adesso? Quali sono i prossimi passi sindaco? Beh intanto mi piace sottolineare che per quello che riguarda la difesa della costa questa amministrazione ha veramente fatto tanto ricordo quando mi sono insediato nel 2014 c'era una situazione difficilissima in quasi tutta la costa ad oggi abbiamo investimenti già eseguiti e parte una minima parte in corso per quasi 15 milioni di euro ricordo gli interventi fatti a Sassonia a Fano a sud del Metauro alcuni interventi anche a nord del Metauro alcuni piccoli rinforzi con questa convenzione procediamo con le progettazioni e poi ovviamente con le risorse destinate si andranno anche alla gara d'appalto ma in corso in questo momento ce ne sono diverse a cominciare da quelle davanti il bersaglio richiamate da diverso tempo anche dai residenti lì avevamo lasciato quello spazio per dare priorità alle altre zone adesso partiranno i lavori anche qua stiamo procedendo per l'altro intervento che era l'ultima parte rimanente a Sassonia quella vicino al laboratorio e biologia marina 800 mila euro lo vedete anche ripreso quindi lo scelto del bersaglio sono 1.650.000 euro 800 mila euro quella è l'ultima parte di Sassonia Nord e la sistemazione anche della diga foranea lì sul porto che è un'altra parte che aveva delle difficoltà questi sono gli interventi immediati poi stiamo procedendo con il secondo stralcio di Metauriglia abbiamo fatto i primi lavori di 4 milioni anche qui devo dire qualcuno era venuto a fare interviste preoccupato che non riuscissimo ad arrivare a destinazione dicendo spostiamo le risorse in realtà le abbiamo inaugurate con anticipo a dimostrazione insomma che quando le cose le seguiamo le facciamo quindi mi sento di dire che questi risultati sono non per caso lo voglio sottolineare perché poi queste cose sfuggono Fano nella costa è quella comune che ha avuto maggior risorse perché è uno dei pochi comuni che ha copartecipato quindi noi abbiamo fatto uno sforzo importante come amministrazione comunale copartecipando e ottenendo molte risorse anche con la collaborazione degli operatori che nei momenti più difficili ci hanno aiutato per fare anche delle fasi per la progettazione quindi va un doveroso ringraziamento anche a loro però veramente anche personalmente ci ho dedicato tempo e impegno e oggi mi sento di dire che tanti risultati sono arrivati Rimaniamo su Lungomare per parlare del waterfront e anche della ristrutturazione di Viale Battisti a che punto siamo? Sì siamo a buon punto stiamo lavorando alla progettazione si sta correndo e andremo anche qui presto all'appalto qui trasformeremo questa parte ma direi Lungomare di Sassonia ma anche Torrette perché sono lavori, progettazioni parallele che andremo ad appaltare l'obiettivo è anche per me sarebbe una soddisfazione riuscirle ad inaugurarle prima della fine del mio mandato come vedete anche sullo schermo questo è Torrette ovviamente uno stralcio non tutta l'opera uno stralcio importante a Sassonia che è quello che riguarda queste Torrette sempre Sassonia che riguarda l'Anfiteatro Rasta dove lì trasformeremo tutto diventerà veramente una piazza straordinaria che riqualificherà tutta la... ecco la vedete dall'alto riqualificheremo anche Viale Battisti in entrambi i lati e quello sarà un accesso dal centro verso il mare veramente bello che qualificherà la nostra città una città che sta diventando sempre più bella parlando del suo mandato quindi entro il 2024 giusto per far sapere a casa la data delle elezioni in questo momento abbiamo già appaltato stiamo appaltando nelle prossime settimane insomma da qui a marzo oltre 50 milioni di lavori un gran pari di questi saranno conclusi entro maggio 2024 diversi nel 2023 alcuni li lascerò in eredità a chi verrà dopo ma dovrà solo andare a tagliare il nastro e tutte queste opere che si aggiungono a quelle che abbiamo fatto nel primo mandato sono veramente tante adesso non so quantificarle ma sono veramente centinaia e centinaia di milioni di euro penso che nella storia della nostra città una cosa del genere non si sia mai verificata io avevo fatto una battuta lo ripeto perché ne sono convinto uno degli obiettivi che avevo era quello di avviare Fano per farla diventare la città più interessante e bella della regione e oggi a distanza di anni mi sento di dire che il percorso è avviato ovviamente sarei un presuntuoso se dicessi che questo avviene entro il 2024 ma se chi seguirà continuerà verso questa direzione Fano sarà veramente trasformata veramente bella veramente attraente perché andiamo a riqualificare la città il lungomare e quando dico lungomare parlo di tutta la costa e non soltanto di alcune parti dei quartieri interventi importanti di attrazione anche turistica di interesse per cui sono tanti gli interventi che verranno fatti poi quelli dei servizi dalle scuole agli impianti sportivi poi potrei citare se vogliamo rimanere al centro della città visto che parlavamo di Viale Battisti potrei raggiungere la riqualificazione in corso già appaltata di Piazza Marcolini di Piazza Andrea Costa dell'ex area dell'Agip queste tutte parti che verranno veramente belle e saranno attraenti interveniamo sul bastione Sangallo anche su quella pavimentazione che tanto fa discutere faremo anche alcuni piccoli interventi di minore entità ma che nel loro piccolo hanno la loro importanza sono ripartiti i lavori del Sant'Arcangelo e deliti anche questo è un elemento di forte attrazione e di interesse è stato finanziato parte del progetto della nuova biblioteca federiciana per un importo di oltre 2 milioni un importo complessivo di 9 milioni che fra l'altro in questi 50 non li avevamo ancora inseriti e questo sarà un altro di quei progetti che ovviamente non saranno ultimati entro maggio del 2024 ma sono quelli che faranno di fanno veramente un attrattore un punto di riferimento e come in questo ultimo caso poi la polizia locale dovrà spostarsi cioè beh quella la parte della palazzina sarà di interesse ovviamente la biblioteca di quello della nuova struttura ma non è una cosa per domani quindi non si devono ancora preoccupare ma anche lì abbiamo già delle soluzioni interessanti ne parleremo però ecco nei prossimi paio d'anni anche nel momento che è ultimata l'opera ovviamente la palazzina non viene interessata se non nella parte del sotterraneo però la sua destinazione finale sì sarà diversa sentiamo subito chi c'è in linea buonasera 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 sono da Pesaro sì spero che mi risponda il sindaco come no no io le volevo fare una domanda più rettamente politica le volevo chiedere il sindaco che cosa pensa dell'attuale situazione della sanità qui nel nostro territorio perché mi è sembrato questa è la mia la mia percezione che si lamenti solamente il sindaco di Pesaro di quello che stanno facendo a livello regionale quella che chiamano appunto rivoluzione addirittura nella sanità e mi pare che sia un po' più silente da parte dell'amministrazione che lei presiede e questa è una percezione oppure cioè vera oppure è solamente un dato che non corrisponde alla realtà di quello che è il vostro giudizio ecco questo le volevo dire grazie per la sua telefonata sindaco sì la preoccupazione della sanità non è la preoccupazione di una città ma è territoriale perché troppo spesso quando si parla di sanità si è fatto un po' troppo campanile mi ci metto anch'io su questo o si è voluto svolgere un ruolo di egemonia ad un territorio rispetto ad un altro l'intelligenza vuole che quando si parla di sanità di quei servizi che riguardano la persona in senso qui abbiano ampio abbiano una strategia territoriale soprattutto condivisa e questo non è sempre avvenuto e quando non c'è la condivisione c'è qualcuno che decide per altri i risultati poi purtroppo sono negativi perché non è il miglior modo per arrivare al risultato oggi c'è un problema c'è un problema nel senso che c'è ovviamente un'inversione della strategia sanitaria complessiva mentre prima si ragionava di un'unica struttura concentrata su Metauriglia Metauriglia scusate le parla di Pesaro quindi dell'ospedale unico Muraglia Muraglia ecco mi confuso con Metauriglia Muraglia ovviamente una struttura nuova una nuova struttura su due siti ma che si concentrava con 600 posti a Muraglia oggi quella scelta è cambiata secondo me è stato un errore chiudere Marche Nord perché aveva ottenuto grandi risultati ragionando su due ospedali come se fosse un'unica struttura perché due città così vicine devono ragionare insieme i doppioni non aiutano la sanità e non aiutano le prestazioni però è anche vero che le strutture vanno rafforzate integrate tra loro la preoccupazione che oggi c'è che non è solo quella di costruire nuove strutture nuovi edifici ma bisogna riempirli e la carenza oggi di medici di personale e anche di risorse per la gestione destrano delle preoccupazioni quindi un problema serio c'è ovviamente deve essere approvato e discusso il nuovo piano sanitario quindi sarà questa un'occasione di confronto e posso dire anche questo che non stiamo con le mani in mano perché non bisogna aspettare che arrivano soltanto le proposte bisogna anche ragionare e lavorare in prospettiva dando anche delle indicazioni importanti però lo dico al telespettatore di Pesaro la sfida è anche quella di distribuire e quella di pensare a un territorio più ampio e non a un territorio ristretto per il bene appunto dei cittadini quindi della comunità per questo non sempre c'è stato poi nei prossimi giorni vi faremo ascoltare nel corso del telegiornale anche un'intervista dell'assessore regionale Baldelli che fa proprio il punto per quanto riguarda la sanità a famo però ecco il problema è questo non è soltanto perché lì la sanità è divisa tra l'edilizia sanitaria e l'assessore alla sanità è come dire facciamo le scuole però bisogna avere gli insegnanti che ci vanno a lavorare dentro perché una volta abbiamo costruito la struttura se poi rimane vuota o semivuota è chiaro che questo non è un bel servizio ed è un problema assolutamente sì abbiamo un'altra telefonata in linea per lei buonasera 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 il sindaco è qua che l'ascolta allora signor sindaco io vorrei far presente che ogni cantiere ha l'obbligo di mettere un cartello con l'indicazione del responsabile di cantiere e con l'indicazione dei lavori che vengono fatti ora ora se i lavori che vengono svolti attualmente nel nuovo parco urbano non c'è nessun cantiere in atto che riporti queste indicazioni perché grazie sono stati dei problemi di ritardi perché i lavori dovevano essere già consegnati la nuova tempistica ha posticipato di qualche mese per la fine febbraio dico anche marzo mi accontenterei adesso vediamo strada strada facendo ovviamente vorrei dirlo anche ai telespettatori che quando si firma dei contratti ci sono dei tempi degli accordi da rispettare e quando questi non vengono mantenuti ci sono anche delle penali che le dite poi pagano invece per la vasca di prima pioggia quello lavoro che ha subito dei ritardi però è stato concluso questo è fatto adesso c'è la prova del 9 con la prima vera pioggia importante abbiamo collaudato tutto ha funzionato per cui il lavoro è ufficialmente finito qui ho assistito a tante polemiche dei ritardi giustissime perché siamo arrivati abbiamo avuto dei ritardi anche un po' troppo lunghi che ci hanno fatto perdere oltre un anno però vorrei dire questo il ritardo c'è stato però da quando sono bambino io ricordo che in quella zona quando pioveva con una certa insistenza la zona si allagava siamo arrivati con un anno di ritardo dopo 50 anni io penso che un merito vada riconosciuto che abbiamo risolto il problema aspettiamo di dire abbiamo risolto il problema con la prima pioggia vera consistente però il progetto è stato tarato su una casistica di oltre 100 anni e quindi deve esserci proprio una situazione strepitosa che potrebbe continuare a mantenere una difficoltà quindi oggi lasciatemelo dire chiedo scusa per il ritardo di un anno ma il problema dopo 50 anni lo abbiamo risolto andiamo avanti con le segnalazioni purtroppo le foto che ci inviate in questo momento non riusciamo a farle vedere in diretta invece questa mattina ci hanno inviato una foto da via quinta strada bellocchi di Fano dove un cittadino segnala l'asfalto degradato inoltre ci ha scritto nel messaggio sarebbe necessario installare dei tombini perché in caso di pioggia la strada si allaga andiamo invece a vedere adesso un video sul parcheggio di via del risorgimento così poi ne parliamo insieme questo è il parcheggio di via del risorgimento questa è la strada tutta rotta lavori che stanno facendo da molto tempo doveva essere finiti i lavori del parcheggio a dicembre però non si vede l'ombra di nessuno da giorni quando poi lavoravano anche di domenica sotto l'acqua ho visto qualche volta adesso vabbè ci sono le feste e il cantiere è ancora ridotto così però purtroppo di questo parcheggio ce n'è un gran bisogno non si trova posto auto spero che si finisca finisca al più presto ecco sindaco ci sono stati dei ritardi però legati anche all'aumento dei costi sì qui allora intanto ci sono stati 11 giorni di pioggia insistente e il signore diceva hanno lavorato anche con la pioggia quando lo consentiva e un mese di dicembre ha avuto 11 giorni di pioggia importanti e quindi lì purtroppo in quei giorni non hanno lavorato poi sono state le ferie delle festività c'è stato un problema di aumento di costi quindi abbiamo dovuto rivisitare il preziario per alcuni interventi e quindi quello inevitabilmente richiedono del hanno una loro tempistica noi siamo un ente pubblico quindi ha tutta una serie di procedure detto questo entro il mese di febbraio verrà consegnato inaugureremo questo nuovo parcheggio che sarà un parcheggio bello con più posti auto e che tiene conto anche del verde perché ci saranno anche più entumazioni e quindi sarà è vero oggi guardando queste immagini non è un bel vedere però quando sarà finito renderà anche la zona più bella a questo vorrei aggiungere altri interventi il foro boario il foro boario è un altro di quelli indecenti per la sua situazione abbiamo già appaltato adesso quando il tempo lo considera il tempo come temperature ecco lo vediamo nell'immagine anche qui diventerà un bel parcheggio come non lo è mai stato il foro boario anche sicuro con illuminazione quindi anche questo è un bel intervento ma vorrei aggiungere un nuovo parcheggio che verrà ampliato quasi raddoppiato quello di Viale Kennedy anche quello è un intervento importante visto che parliamo di strade abbiamo anche qui mantenuto un impegno anche una tempistica che andava fatta nel 31-12 la cosiddetta strada delle barche la fermo un attimo e chiedo alla regia di preparare la telefonata perché riguardava proprio questo argomento almeno rispondiamo direttamente al telespettatore se ce l'abbiamo la facciamo subito se no intanto vado avanti con le domande al sindaco perché parlava anche di asfalti ci stanno inviando come puoi immaginare tanti messaggi strada Sant'Egidio Sant'Elia Sorelle Morelli via Sironi insomma siamo pieni di messaggi di richieste di questo tipo quindi vi facciamo rivedere vi riproponiamo due cartelli che vi abbiamo mostrato nelle scorse settimane nel corso del Tg con gli asfalti da realizzare e quelli che poi realizzerà Aset così cercate se c'è anche la vostra però devo fare una precisazione in realtà queste non sono nuove strade sono le strade che non sono state ultimate entro la sospensione dei lavori cioè con l'inverno che non sono state determinate dalla dita riprenderanno appena si alzano le temperature quindi penso inizi di marzo quindi fanno parte dei vecchi appalti a questo a quelle che poi effettueranno effettuerà Aset se ne aggiungeranno una nuova appalto quindi con altre vie che ancora stiamo esaminando ma tra poco avremo anche quell'elenco che andranno dal prossimo estate a quella e finiranno alla primavera dell'anno successivo non appena sarò pronto anche su questo vorrei fare una precisazione adesso i numeri non sono impressioni da quando sono sindaco noi abbiamo già asfaltato oltre 120 km di strade e un'amministrazione di quelle più virtuose in dieci anni avevano asfaltato un centinaio di chilometri ma forse ce n'è stata una nella storia della città che aveva avuto questo noi ne abbiamo asfaltato 120 tenendo conto anche che nell'ultimo periodo con questa gara qua purtroppo con l'aumento dei prezzi invece di fare 60 km 50-60 ne facciamo 30 quindi ne avremmo avute altre ancora altre di più purtroppo questa situazione internazionale di anche speculazione sul costo dell'energia ha portato questo effetto e nell'arco di un mese ci ha fatto ridurre di oltre 20 km le asfaltature in più che avremmo fatto che cerchiamo di recuperare nei prossimi mesi abbiamo una telefonata per lei sentiamo chi c'è in linea buonasera buonasera signor sindaco buonasera io volevo fare una domanda sulla strada delle barche a che punto è il progetto a che punto sono i lavori se è per tutti se è solo per le barche e un'altra cosa questo e anche quei 100 metri di Viale Ruggeri se si può fare una pista ciclabile perché lì c'è un gran transito di biciclette pedoni all'estate è anche pericoloso quei 100 metri da dove finisce dare camper arrivare alla pista dei co-carb se c'è un progetto qualcosa che si può fare e si risponde sulla domanda della strada delle barche grazie benissimo allora le posso dire che abbiamo già appaltato i lavori della strada delle barche abbiamo già non solo appaltato abbiamo affidato alla ditta adesso non ricordo il nome della ditta e quindi la foto che vedete che vedo io non so se la vedono anche i telespettatori ecco questa qua quindi verrà realizzata questa sarà soltanto per le barche però per il trasporto eccezionale non per il traffico purtroppo abbiamo dovuto fare quella curva perché la sovrintendenza ci ha vincolato all'altra parte altrimenti potevamo andare anche dritti Viale Ruggeri adesso vediamo cosa riusciamo a fare che con le economie di questo progetto perché in parte copriremo anche la risistemazione di Viale Ruggeri non tutta a quel punto noi interverremo per la differenza perché Viale Ruggeri e lo diceva che ha il tema anche delle biciclette lì era prevista in un piano piste ciclabili tutta la riqualificazione ma legata alla lottizzazione che sta a monte della spiaggia quindi oggi non posso dire che noi quell'intervento lo possiamo realizzare però la strada questa delle barche è una risistemazione di Viale Ruggeri sì e abbiamo già affidato i lavori alla ditta abbiamo tanti messaggi ma dobbiamo andare un attimo in pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco Bentornati in diretta Sindaco partiamo adesso in questa seconda metà della puntata parlando del biodigestore ci stanno arrivando diversi messaggi gliene nego due su tanti Gentile Sindaco relativamente l'incontro avvenuto tra i tecnici del comune di Fano Aset e Ferronia in merito al biodigestore di terre ruveresche preso atto dell'opposizione dei tre comuni di riferimento della cittadinanza e di ricorsi al TAR promossi da questi non riesce a vedere la scorrettezza istituzionale che state compiendo ci scrive andando a decidere intervenire su un territorio che nulla a che fare con la vostra amministrazione l'entroterra merita chiede e rivendica rispetto un altro dice Sindaco che cosa ne pensa di questo biodigestore nella nostra ballata noi non lo vogliamo bene sono contento di questa domanda e immagino che ci siano diverse persone della zona in collegamento allora mi sento di dire questo mi reputo una persona seria con tutti i limiti e con tutti gli errori che possono qualsiasi persona che ha delle responsabilità può commettere però la serietà non la metto mai in discussione sono ormai otto anni e mezzo che faccio il sindaco e non non mi rivolgo a questi che hanno scritto questi messaggi che hanno chiamato ma a chi ha delle responsabilità come le mie e non ho più voglia di fare polemiche strumentali mi piace confrontarmi con concretezza sui fatti reali dicendo la verità in questi giorni ho sentito delle cose che non mi piacciono che non rispondono al vero e alcune volte nello sport o in qualche situazione si dice da noi in dialetto quando non ce la fai buttala in cagnara alcune volte per nascondere magari qualche responsabilità si provoca una discussione si alimentano allora Fano ad oggi non ha fatto assolutamente nulla questo sia ben chiaro ho letto anche dal mio collega alcune dichiarazioni che non erano riportate sulla stampa e quindi magari se mi spiega anche come fa a averle così alcune non le conosco neanche io così avremo qualche elemento qualche elemento in più allora qui c'è un'iniziativa tutta privata Fano ha fatto una procedura per chiedere a chi voleva copartecipare per realizzare un biodigestore a cominciare dai terreni che erano stati identificati sono arrivate delle proposte ma ad oggi fa non ha fatto ancora nulla perché c'è un'iniziativa completamente privata e secondo me ci sono anche altri privati che sono interessati giustamente coloro che si oppongono hanno fatto un ricorso non capisco perché non abbiano chiesto la sospensiva questo mi fa specie ci saranno altre ragioni però parlare così non è semplice allora mi sento di fare una proposta perché io mi assumo sempre le responsabilità ci metto sempre la faccia e quando si parla di territorio questo sindaco come sindaco di Fano ha fatto tutta una serie di azioni che guardava il territorio nel suo insieme specialmente la gestione dei servizi pubblici e privati specialmente per quello che riguarda ASET ASET e il comune non hanno assunto nessuna decisione perché le decisioni si assumono in consiglio di amministrazione e in consiglio comunale e in giunta ma ci sono gli indirizzi del consiglio comunale quindi di tutto questo non c'è assolutamente nulla poi c'è alcuni tecnici che si incontrano che fanno delle verifiche che fanno ma sono marginali rispetto ad altri ragionamenti allora mi sento di fare una proposta e lo dico magari consapevole anche delle difficoltà che ci possono essere invito il mio collega sindaco di Terra Roveresche che ha detto una serie di situazioni di fare un incontro pubblico vengo io del comune di Terra Roveresche però con dati con tutto in modo che diciamo la verità parliamo di questioni concrete con responsabilità e poi le scelte si potrebbero fare insieme ho aperto una parentesi non l'ho richiusa quando rivendicavo un'attenzione verso il territorio bene questo sindaco quando si è insediato una delle prime cose che ha fatto coinvolgendo tutti i comuni soci dell'entroterra ha fatto dei stipulati dei patti dei patti adesso mi sfugge il termine questa sera sono un po' stanco parasociali dove con il 3% di azioni che sono a capo dei comuni di minoranza ma in realtà poi si discute li riconosciamo il 30% il 30% anche in termini di benefit e quindi io penso che questa sia nell'intero territorio provinciale siccome sono due società io penso un'attenzione come questa non ci sia mai stata poi sono gli elementi concreti che contano allora rinnovo questo invito ma nella tranquillità nella trasparenza perché le cose dal mio punto di vista nel rispetto anche di chi rappresentiamo dei cittadini dobbiamo chiamarle cose per nome e cognome per quel che sono quindi mi rendo disponibile vengo su ci concordiamo facciamo un confronto parlando di cose con atti con documenti pubblico con la gente con i giornalisti così senza sutterfugi e ci confrontiamo ragioniamo però nella verità perché altrimenti è troppo facile scaricare su quello su quell'altro quando specialmente le cose non stanno proprio come si raccontano e quando uno le racconta da solo vale anche per me quindi mi assumo anche io le mie responsabilità però quando lo facciamo insieme con gli atti con i documenti le cose cambiano non scendo nello specifico sindaco perché abbiamo veramente tanti argomenti da trattare da trattare però vediamo quindi io sono a disposizione anche nel rispetto di quelle persone che hanno chiamato certo verso cui ho grande rispetto chiedo alla regia adesso di passare a un altro video che ci ha inviato un telespettatore che è stato girato in zona Sassonia Fano zona Porto Stradina che porta alla Marina dei Cesari tratto di strada molto frequentato ci sono i cartelli dei passaggi pedonali ma purtroppo le strisce per terra non ci sono più forse sarebbe meglio rifarle no signor sindaco sindaco brevemente se è possibile sì grazie mi adoperò ovviamente adoperà non significa domani però lo farò mettere nell'elenco degli interventi che vanno fatti perché ha perfettamente ragione invece padre Gianfranco paroco del Porto ci chiede se è possibile collocare uno specchio per rendere più sicura l'immissione da via Pergolesi in viale primo maggio verso Pesaro quindi un'altra segnalazione adesso questo lo gira all'ufficio uno studente universitario ci scrive le chiede come mai in una città che possiede due sedi distaccate di altre università proprio nel momento che gli esami si fanno più vicini e che il momento coincide con le vacanze di Natale la biblioteca e la mediateca montanari rimangono chiuse perché poi dopo spostano questi studenti al cubo di San Lazzaro quindi un disagio che viene provocato a loro se fosse possibile anche nel periodo natalizio raccogliamo il suggerimento ormai per le prossime festività altri messaggi i bagni pubblici chiedono state lavorando mi arrendo nel senso hanno perfettamente ragione il mio cruccio sta nelle cose da fare abbiamo 18 mesi per poterlo ancora fare poi non abbiamo più giustificazioni però devo dire l'assessore ha già i preventivi si è già mossa da tempo cerchiamo di proviamo a farli entro quest'anno proviamo dalla portavoce del comitato scogliere Michele Tanzi parlavamo appunto prima di Metauriglia la invitano ad un incontro pubblico per parlare delle scogliere quindi se fosse possibile organizzarlo per confrontarsi anche la sua l'abbiamo interessato tra l'altro dico questo anticipo che presto adesso non ricordo il giorno perché me lo sono già appuntato della prossima settimana andremo giù perché lì dobbiamo ci sono più cose da su cui confrontarsi e presentare a cominciare dal lavoro di prefattibilità della viabilità di Fano Sud che abbiamo fatto realizzare alla provincia e quindi dovremmo andarlo a presentare ovviamente l'incontro non in quella sede perché non si può parlare di tutto lo faremo anche per le scogliere perché lì veramente è un altro intervento che trasformerà il volto di quel quartiere ecco telegrafico un altro elemento che voglio segnalare è che stiamo facendo tutta una serie di interventi in tutti i quartieri della nostra città anche e se pensiamo alle strade anche in quelle zone molto periferiche con poche abitazioni perché c'è una sensibilità anche in questi termini il cimitero di Rosciano ci dicono padiglione 5 ci piove il custode raccoglie l'acqua è importante da sistemare chiediamo un'informazione adesso abbiamo stanziato anche qui stiamo lavorando sul bilancio di previsione delle risorse importanti anche per i cimiteri la famosa caserma di vigili del fuoco sindaco che fin ha fatto sì anche su questo io il percorso l'avevo concluso avevamo fatto la gara avevamo affidato anche la ditta che doveva realizzarla poi si sono con gli aumenti dei prezzi si sono ritirati tutti quanti c'è stato un incremento il ministero ci ha garantito che metterà le risorse aggiuntive in questo momento stiamo aspettando la lettera di risposta che dovrebbe essere una formalità mi sono sentito anche il 3 gennaio a proposito di riposo il 3 gennaio con il responsabile del ministero degli interni del vigili del fuoco che mi segue direttamente la questione quindi è il numero uno del ministero degli interni proprio in questo settore appena ci ritorna noi faremo rifaremo la gara per cui a questo punto veramente penso di poter inaugurare la posa della prima pietra perché ci tengo in quanto rivendico anche un risultato importante anche questo perseguito per tantissimi anni ed eravamo riusciti a chiudere il cerchio in poco tempo poi purtroppo un po' la burocrazia un po' la crisi internazionale che si è verificata ci ha non dico rifatto ripartire però ci fa rifare la gara l'ex assessore Fabiola Tonelli aveva anche annunciato una rotatoria finile verrà realizzata? è già stata appaltata entro il 31-12 la provincia dove coparticipiamo anche noi come comune anche su questo pensando a Fenile mi viene da dire insomma ricordo la prima assemblea che ho fatto a Fenile dove avevamo individuato una serie di interventi e con la rotatoria penso di dire che tutte quelle questioni affrontate allora le abbiamo tutte realizzate penso alla pista ciclabile penso alla sua illuminazione a tutta una serie di asfaltature al ponte che da Fenile porta verso Centinarola perché magari la gente non se lo ricorda ma sono interventi che abbiamo fatto quindi nel 2023 anche la rotatoria di Fenile verrà realizzata in diverse zone della città la notte scorsa sono state tagliate le gomme pneumatici di diverse auto quindi un telespettatore ci chiede considerati anche gli altri atti di vandalismo successi nei mesi scorsi al Pincio alla stazione che è stato di degrado qual è la situazione attuale delle telecamere di videosorveglianza e si è pensate di aumentare sì allora noi abbiamo fatto una progettazione condivisa con le forze dell'ordine ovviamente siamo stati tra i primi a partire con un progetto integrato di videosorveglianza della città il primo impegno è stato quello di videosorvegliare gli ingressi e le uscite della città perché certi fenomeni non sono interni ma sono esterni sono quelli di maggiore importanza che hanno avuto un calo e attraverso tutte quelle installazioni la città è videosorvegliata in tutti i suoi accessi di entrata e di uscita questi ne stiamo aggiungendo degli altri alcuni foc sono stati fatti in alcune zone più sensibili ovviamente ce ne sono delle altre adesso stiamo progettando abbiamo ordinato anche delle telecamere per le zone ZTL che ovviamente poi avranno una funzione anche di videosorveglianza perché comunque riprendono delle immagini di chi attraversa in quelle strade è chiaro che a queste se ne dovranno aggiungere delle altre ma non in questo momento perché quelle risorse destinate sono a quella a cui facevo riferimento prima in Viale 12 settembre davanti al nido ci segnalano dei parcheggi selvaggi più volte segnalati ed è un pericolo anche perché poi bisogna insomma i cittadini sono costretti a passare sulla careggiata andiamo a vedere altri cartelli che abbiamo preparato cominciamo dall'impiantistica sportiva 2023 sindaco quali interventi? sì anche qui sono tanti gli interventi dell'impiantistica sportiva che danno risposte significative dal circuito Zengarini abbiamo avuto un finanziamento significativo di 3 milioni e 2 qui andremo a rifare completamente la pista sistemeremo la infelice tribuna che è stato più un problema che una risorsa e andremo a realizzare una nuova struttura che è indoor che consentirà di fare attività di atletica anche durante la stagione invernale è un bel intervento una pista di Pantrac questa sarà una pista che sarà di grande attrattività perché sarà una delle migliori che abbiamo guardando a sud e a nord e quindi trovandosi anche la sua ubicazione vicino all'intersezione delle infrastrutture quindi penso che avrà veramente un grande risultato ed è per tutti piccoli e grandi ci sono tanti estimatori e quindi questa sarà una bella struttura andremo a riqualificare gli impianti del Vallato dei Sant'Orso sarà realizzata la nuova piscina entro quest'anno ovviamente con la fondazione Carifano che la realizza a cui va il ringraziamento ma sta dentro un progetto condiviso con l'amministrazione comunale facciamo vedere anche il cartello così abbiamo interventi di efficientamento energetico a Gimarra il campo da baseball poi un intervento importante anche a Ponte Sasso questi sono interventi per oltre 9 milioni e a questi ne aggiungeranno anche degli altri che oggi non sono non risultano qua perché andranno nel prossimo programma però sempre per il 2023 chiedono per la gradinata dello stadio Mancini esatto uno di questi vi faccio riferimento proprio anche a quello anche stamattina ne abbiamo parlato c'è da dire anche che parlando con la dirigenza anche della società ci hanno chiesto di intervenire prima insieme a loro fra l'altro li devo anche ringraziare perché co parteciperanno per degli interventi su altre strutture che servono per le giovanili anche per gli allenamenti come il campo cosiddetto campo dei militari dove non l'abbiamo mai inaugurata ma abbiamo rifatto completamente gli spogliatori nuovi andiamo a vedere invece gli interventi che riguardano le scuole e gli edifici pubblici sempre con l'ausilio si anche qui grandi notizie perché anche sulla scuola già tanto abbiamo fatto vorrei ricordare la scuola elementare di Cucurano bellissima che abbiamo inaugurato ma qui ci sarà la nuova asilo nido di Bellocchi completamente nuovo che non c'è quindi una bella risposta per oltre un milione e mezzo il nuovo nido girasole un altro milione e mezzo la nuova scuola materna Carrara Cucurano con la mensa che sarà a fianco dell'attuale scuola elementare per 5 milioni poi ci sono come avevo anticipato prima sugli edifici pubblici tetti comunali perché c'è una parte del comune dove ci piove dentro e la manutenzione di cimiteri abbiamo messo mezzo milione e anche qui un intervento importante A che punto le chiedono la pista ciclabile che finisce nei pressi di Bagnalda e gli altri progetti verso lo stop dei fondi Sì allora anche su questo stiamo lavorando e stiamo aspettando il bando che uscirà dalla regione che l'assessore Baldelli aveva anticipato già da tempo perché la regione ha avuto dallo Stato delle risorse importanti per destinare a questo tipo di interventi Noi siamo pronti perché abbiamo già fatto siamo a buon punto per quello che riguarda Metauriglia lì è anche più facile la situazione la parte più complicata è quella di Torrette sulla quale abbiamo chiesto anche un supporto e qualche modifica penso che le andremo a riportare anche sul progetto originario tenendo conto anche delle riflessioni e suggerimenti che ci stanno dando quelli che stanno lavorando sul waterfront perché questi interventi devono dialogare anche tra loro per cui stiamo aspettando che esca il bando per partecipare e siamo convinti insomma che avremo anche qui una risposta molto importante e ci includeremo anche nella progettazione il ponte ciclabile anche sul Metauro mentre la regione ha già finanziato quello del Misa a Senigaglia il Metauro sappiamo che il più complesso è il più costoso perché è il più grande e il più largo come fiume e quindi stiamo andando avanti stiamo andando avanti anche con l'altre quasi 4 milioni che non trovate qua cioè mi viene da dire che in questi 50 milioni in realtà ce ne sono tanti di più le ciclabili che con un ponte pedonale ciclabile pedonale che attraverserà il canale Albani e la superstrada che lavorerà Sant'Orso con il nuovo parco quelli sono quasi 4 milioni di interventi mi viene da pensare i sottopassi dei RFI di Viale Cairoli e di Viale Nazario Saro che sono altri 4 milioni e mezzo quindi vedete già sono 8 milioni che non c'erano questo lo dico non tanto per sparare cifre ma per dare un senso un valore un'importanza degli interventi che ad oggi abbiamo solo annunciato perché è stato tempo di semina quindi di progettazione ma oggi il 2023 è anno di raccolto e insomma di tirare le reti visto che siamo anche una città di mare La Flaminia all'altezza di Rosciano rincrociano i pressi della vecchia chiesa è pericolosissimo servono al più presto interventi per allentare la folle corsa degli automobilisti Anche su questo buona notizia perché nella gara che abbiamo fatto entro un 12 della rotatoria di Fenile abbiamo messo anche interventi di marciapiedi per rallentare il traffico vicino alla chiesetta di Rosciano ma Rosciano non è andata in gara perché è un intervento più consistente ma c'è già in avvio la progettazione di una rotatoria anche a Rosciano come abbiamo avuto modo di presentare in un'assemblea pubblica proprio nel quartiere di Rosciano Prima di andare a vedere E poi visto che siamo a Rosciano c'è l'altra rotatoria che ha fatto discutere però anche lì lo sistemiamo a parte abbiamo messo alcune risorse Quando inizieranno i lavori? Questo non posso dire ma A breve comunque Sì, sì la ditta c'è già quindi Dicevo prima di passare agli interventi di mitigazione idraulica leggo questo messaggio vorrei che ci fosse un ricambio generazionale nelle riunioni di quartiere a Ponte Sasso vorrei giovani genitori che prendono in mano il nostro territorio a Fano Sud e interagiscono con il comune inutile dire che ci mancano figure rappresentative con voglia di realizzare buoni progetti per la nostra zona quindi un appello Qui sì ma l'appello noi siamo solo contenti se aumenta la partecipazione poi dipende dalle persone che si devono rendere disponibili Allora dicevamo guardiamo insieme questo cartello perché ci sono diversi interventi a partire dalla fognatura di Sassonia ne parleremo nei prossimi giorni anche con l'assessore Brunori e poi finalmente anche la frana di Carignano ne abbiamo parlato per anni sì anche questo lo dico con soddisfazione perché sembra no mi diceva il sindaco annuncia soltanto qui sono tutte gare lavori aggiudicati e affidati quindi la fognatura di Sassonia quella da quando ho sentito il sindaco già ne parlavano è un impegno che mi ero preso anche con i residenti e quindi questo porterà una risposta di raccolta delle acque molto importante in tutta la zona Carignano la frana anche questa se ne è parlato da tanto tempo è un intervento importante Rio Crinaccio un ulteriore intervento che va a migliorare anche la situazione che si è creata nell'ultima volta ma lì stiamo andando avanti anche con la progettazione stiamo cercando di reperire altre risorse per fare altri tipi di intervento come abbiamo avuto modo di dire nell'incontro tenuto nel quartiere e la pulizia dell'Arzilla 100.000 euro ma anche questo lo dico perché l'obiettivo non è quello di fare interventi spot ma di rendere costante degli interventi anno per anno tant'è che anche nella progettazione 2023 abbiamo già previsto di inserire risorse per fare questi tipi di interventi però su questo poi non dimentichiamolo che c'è la regione che deve fare la sua parte non si può noi essendo gli enti e gli amministratori di prossimità dialoghiamo costantemente con i cittadini però non è anche giusto che poi ci facciamo carico anche delle competenze che non sono nostre Buonasera Sindaco occorrerebbe mettere in sicurezza la rotatoria tra via Inaudi e via Ottava Strada le auto provenienti da Inaudi non accennano a rallentare mancano attraversamenti pedonali le chiedono poi se ci sono degli interventi previsti per Centinarola oltre allo sgambatoio Sì lì c'è ci sono più discussioni intanto abbiamo approvato il master plan del progetto quartiere a misura di bambino e bambina come abbiamo fatto a Sant'Orso per Centinarola che prevede una serie di interventi qui c'è una discussione in atto legata ad una variante che con la realizzazione di una superficie commerciale che prevede la realizzazione l'ampliamento e la sistemazione della scuola elementare una risposta che la gente attende e sono previste una serie di interventi di messe in sicurezza di ciclabili per il quartiere c'è una discussione sono contrari favorevoli adesso vediamo come va questa proposta se va a buon fine queste sono cose certe e in tempi brevi perché li facciamo fare al privato se questo non ci dovesse essere comunque prevediamo degli interventi per dei rallentatori però ovviamente sarebbero minimi rispetto a questi previsti nell'altra ipotesi mentre prepariamo l'altro cartello sull'efficientamento energetico le leggo questo abbiamo creato un comitato raccolto firme e parlato con l'assessore riguardo la viabilità diventata sempre più insostenibile in via della colonna in previsione poi anche del parco urbano questa situazione andrà sicuramente a continuare è una realtà una strada critica perché vanno veloci poi fra l'altro l'abbiamo anche asfaltata un paio d'anni fa quindi rendendola più scorrevole e ovviamente la velocità la gente alcune volte non è responsabile specialmente in quelle strade che attraversano i centri abitati quindi su questo bisognerà pensare degli interventi come abbiamo fatto in altre situazioni in altri quartieri per proprio intervenire presentemente per farli rallentare eccolo qua ce l'abbiamo efficientamento energetico il teatro della fortuna che in realtà poi diventa anche una riqualificazione la padalino legata anche a Liti queste nuove caldaie che vanno così a definire una volta per tutte a risistemare quella situazione riqualificazione centro sociale Ponte Sasso che diventa anche una riqualificazione importante le chiedono sindaco a che punto è il progetto sulla mitigazione delle acque piovane a Ponte Sasso da parte è quello che dicevo prima adesso lì avevamo tre lavori uno era quello di Rio Crinaccio che adesso partono abbiamo affidato i lavori quindi partono l'altro era con Anas col quale abbiamo già avuto un incontro per far salire leggermente la strada dove c'è il ponticello che aveva creato un imbuto l'ultima volta che c'è stato quel fenomeno e poi c'è un intervento più importante lì dobbiamo andare a riprire risorse perché con le nostre proprio non riusciamo a fare quel tipo di intervento importante poi ci sono alcuni accorgimenti alcuni piccoli sono già stati fatti che vanno a migliorare alcune alcune vie però il progetto complessivo è un progetto milionario e su quello aspettiamo e io penso che vista la situazione che si è avuta in tutto il paese il governo metterà delle risorse come ho già fatto in passato per mitigare il fenomeno idraulico e su quello noi siamo pronti perché abbiamo la progettazione abbiamo già fatto tutto il lavoro interventi anche sulle aree verdi a partire dalla rotatoria di Sant'Orso dovremmo avere anche qui eccolo qua il cartello pronto sì la rotatoria e con chi si parla di tempo le sgambatoie anche questo è un percorso che si è fatto negli anni perché l'obiettivo era quello di arrivare in tutti i quartieri con degli sgambatoi nuovi arredi e giardini nelle scuole dell'infanzia a quadrifoglio anche qui per quello che riguarda le aree verdi vorrei ricordare nel 2022 tutta una serie di interventi penso a Carrara penso a Rosciano adesso non mi vengono in mente altre ma ne abbiamo fatti diversi affanno due adesso stanno lavorando nel centrale piazza per riqualificarla quindi anche su quello c'è stata un'attenzione era un obiettivo e lo stiamo perseguendo tenendo conto come dicevo di tutti i quartieri perché la città deve essere bella in alcune parti e nelle altre bisogna viverci bene quindi fare in modo che tutte quelle realtà abbiano le possibilità per migliorare la qualità della vita Sindaco siamo in chiusura grazie per essere stato con noi poi come sempre ci riaggiorneremo nei prossimi lunedì a rotazione ogni mese mese e mezzo insomma ci farebbe piacere averla nei nostri studi volentieri perché è un'occasione per raccontare per raccogliere osservazioni anche critiche e suggerimenti perché ovviamente poi non è che abbiamo tutto sotto controllo io dico quasi tutto però alcune cose possono sfuggire e tanti occhi in più quelli dei concittadini aiutano a fare meglio un ringraziamento anche a Riccardo Sora regista e a Cristiana Guerra in segreteria grazie ancora per essere stato con noi Sindaco e buona serata a tutti grazie a tutti